Bianco o blu, gol! Oggi è stata una partita difficile in cui ci siamo dovuti sudare il risultato fino all'ultimo minuto. Cosa non ha funzionato? Quali sono state le difficoltà iniziali? La difficoltà sicuramente è dettata dal fatto che loro erano molto chiuse dietro e quindi erano tutte molto accentrate e ne facevamo fatica perché anche noi giocavamo più centralmente invece di allargare sulle fasce. Quindi fondamentalmente abbiamo creato molto ma con difficoltà proprio per la loro chiusura. Una delle cose più positive che si sono viste oggi è stata la mancanza di frenesia perché comunque si è rimasti anche abbastanza concentrati sul pezzo. Sì, in effetti le ragazze sono state, a parte in alcuni momenti della partita che c'era un po' più di frenesia, poi fondamentalmente sono rimaste sempre nella gara e il risultato poi ha dimostrato questo. Doppio risultato importante, insomma, oggi siamo capoliste. Sì, infatti questa partita a Firenze e Verona sicuramente ci ha aggivolate e abbiamo fatto questo passettino e adesso stiamo davanti noi. È una bella cosa e meno male che anche noi siamo riuscite poi a vincere la partita. Daniele è un gol bellissimo intanto che vale tantissimo. Sì, è stato un gol bello, peccato ho avuto altre due occasioni e non sono riuscita a segnare. Comunque oggi era importante vincere, era importante portare a casa i tre punti e iniziare nel migliore dei modi il girone e il ritorno. Vi aspettavate il possibile pareggio del Firenze con il Verona? Sinceramente noi non pensiamo al Verona, al Firenze, al Mozannica e alle altre squadre. Noi pensiamo a noi stesse. Sappiamo che tutto dipende da noi. Ogni partita purtroppo è difficile da affrontare anche le squadre meno forti, diciamo. Però è ancora il campionato è lungo quindi credo che ci saranno delle partite dure e speriamo di portare sempre a casa il risultato. Adesso però è tutto nelle nostre mani. Sì, abbiamo ancora 12 finali da affrontare. Un passettino alla volta, adesso pensiamo a Riviera e poi vediamo come andrà. Oggi un cuneo molto combattivo che ha messo in difficoltà il Brescia. Sì, abbiamo preparato la gara così, abbiamo cambiato qualcosa da un punto di vista tattico per essere un po' leggermente più coperti perché la differenza qualitativa tra le due squadre è enorme, direi. Però rilasce un po' la mano in bocca a andare via senza aver preso niente avendo retto fino al 39esimo secondo tempo, 38esimo se non mi ricordo bene. Adesso ci sarà un filotto di partite difficili, però insomma la prestazione di oggi lascia per sperare. Sicuramente sì, sabato un'altra sfida difficilissima dal Tavagnacco, poi andiamo a Sassari con la Torres, poi abbiamo uno scontro di retto. Però con questo atteggiamento e questa applicazione soprattutto tattica da parte delle ragazze credo che magari potremmo anche con un po' di fortuna racimolare qualche punticino. Monica, ti abbiamo letta come la migliore in campo oggi, avete fatto veramente un'ottima prestazione, poi però appunto la superiorità probabilmente delle individualità del Brescia ha avuto lo meglio. Sì, sicuramente noi abbiamo fatto un'ottima prestazione e secondo me usciamo dal campo comunque a testa alta, cosa che diciamo era il nostro obiettivo oggi, non erano certi punti anche se fino al primo gol in qualche modo ci abbiamo sperato, quindi una buona prestazione per noi. Come giudichi poi la tua di prestazione oggi? Ma penso di aver fatto una buona squadra comunque con tutto il reparto difensivo, tutte insieme, il portiere, siamo state ben compatte fino al primo gol credo, poi forse ci siamo un attimo disunite, anche se il secondo gol è di nuovo venuto fuori da una palla inattiva, la farsa non mi ricordo più comunque, comunque è bene.